per occo la cena dei pellegrini al ristorante alle due corsie fammi che ti mangi un panino alla volta pasquale insostituibile come al solito va bene? si si puoi spegnere buon appetito e no veramente è tutto in diretta Mario te ne sei andato andiamo a vedere gli altri il mio panino prendi la pentola saluto buon appetito ma vai all'America Lucio ora ti manda l'America e cuciere un pozzino i pellegrini si riposano è salito ne avevo un biglietto di paillato che non ci ha voluto venire Vito vieni a mangiare è adesso no mo devo mangiare io Michele tu ti allontani sempre tutti gli anni te ne vai questo è la mia banchina questo è la mia banchina Michele è il secondo panino che si mangia con la fittata io ancora neanche uno ciao Michele saluta zia Dora poi ci sentiamo con zia Dora ciao a tutti ciao facciamo un saluto pure a Don Alessandro il nostro amato Don Alessandro che sta sempre nelle nostre preghiere ma ora mi vado a mangiare pure il panino ciao Matteo Diana e Eric sono dall'America ciao Diana Diana e Eric sono dall'America da Firenze vediamo chi c'è più Alfonsina Casoli da Castelluccio Pasquale Festa da Troia Mario Luisi Vito Russo dalla Toscana Gianfranco Coppolella ciao Donato Serena Donato c'hai bucato Donato non ci sei venuto c'hai bucato Giovanni Caruso Giovanni pure tu c'hai bucato Giovanna Giannetta ciao Pasquale Pollicino Alessio Maciocca Simone Molle Adriano Palombo Matteo Mucciacito Antonietta D'Angelico ciao Antonietta hai visto il tuo fratello che si mangia i panini sono già due un saluto a Don Alessandro che ci sta seguendo Don Alessandro Clemente ciao Don Alessandro bene chiudo che vado a mangiare pure io che ti ha fatto che non è male della mente di qui chiamo